Sindaco, anche Rivoli è favorevole a quest'ordine del giorno. Quali problemi in particolare risolverebbe una gestione diretta del sistema tangenziale da parte della città metropolitana nel vostro territorio? Ma noi siamo favorevoli all'ordine del giorno, noi abbiamo un grosso problema per cui la presenza del casello costringe molti automobilisti e rivolesi ma soprattutto non rivolesi a non pagare il pedaggio perché evidentemente grava sull'economia del proprio bilancio. Tenete conto che l'insufficienza del trasporto pubblico locale costringe ancora a degli spostamenti con gli autoveicoli e quindi c'è un passaggio abnorme in corso Susa che è la via di attraversamento della città. Da una matrice origine e destinazione emerge che nelle 4 ore di punta, quindi dalle 7 del mattino alle 9 del mattino, dalle 17.30 alle 19.30, transitano in questo chilometro di corso Susa ben 6.000 veicoli di cui solo il 20% è traffico locale. Noi quindi grazie alla presenza del casello subiamo un traffico passivo di attraversamento che è deleterio sul piano dell'inquinamento atmosferico e dell'inquinamento acustico. Per cui forse in occasione del rinnovo di queste concessioni è giunto il momento di risolvere questo problema che non è evidentemente solo un problema di rivoli, il problema di altri comuni per i quali la presenza del casello provoca gli stessi inconvenienti e quindi diciamo che in questa occasione bisogna risolvere definitivamente il problema dei pedaggi eliminandoli e trovando un'altra modalità di gestione della tangenziale.